Musica Ancora insieme per una nuova puntata di Diffusion, come ogni martedì parliamo di diritti, parliamo dei vostri diritti, parliamo di legalità e lo facciamo con i nostri esperti, con i nostri avvocati. Questa sera il tema della puntata è la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio, un tema interessante perché chi più chi meno, tutti quanti, siamo stati almeno una volta nella vita coinvolti in una circostanza del genere. Quindi parola ai nostri esperti, noi ci rivediamo in studio tra un po'. Grazie mille Deborah per la linea e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Dilex. Oggi affrontiamo un argomento assolutamente interessante, soprattutto per quello che riguarda questo periodo in cui ci accingiamo ai nuovi conti. In patti si parla di condominio e nello specifico l'amministratore di condominio, la nomina e la revoca. Abbiamo come sempre il nostro carissimo avvocato Marco Minocchari, esperto in materia immobiliare e diamo il benvenuto all'avvocato Pierfrancesco Foschi, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Forlì ed esperto in materia condominiale. Benvenuti, lascio a voi la parola e diciamo introduciamo questo argomento un po' cavilloso. Si, introduciamo un argomento che tocca la stragrande quantità della popolazione e oggi partiamo comunque con una serie di puntate sul condominio. Condominio significa amministratore nella stragrande maggioranza dei casi e per cui partiamo proprio comunque con un argomento che comincerà a parlare della nomina e revoca dell'amministratore. Diciamo subito che l'amministratore è necessario in ogni condominio che abbia più di quattro unità abitative, per cui sostanzialmente ogni condominio che abbia più di quattro unità abitative deve dotarsi di un amministratore. Questo amministratore può essere scelto e nominato dagli stessi condomini oppure se i condomini non trovano un accordo su di esso può essere nominato dall'autorità giudiziaria, questo per essere chiari. E per essere chiari comunque, quando la legge dice che i condomini con più di quattro unità abitative, questo giusto per sgombrare il campo, cioè dubbi, un condominio può essere formato anche di due unità abitative. La cosiddetta villetta bifamiliare è comunque un condominio. Quindi tutti gli spazi abitativi che in qualche maniera accolgono più di un'unità, quindi non ci si può autogestire, ma laddove ci siano degli spazi comuni c'è bisogno di qualcuno che li amministri. Però ho detto, l'amministratore è necessario dove le unità siano sostanzialmente da cinque in su, cioè più di quattro. O paradossalmente c'è un caso anche di più, perché quello che fa il distingo non è il numero di unità, ma il numero di proprietari. Quindi se per paradosso in un condominio di dieci appartamenti ci fossero due proprietari che al momento della costruzione restano proprietari di cinque e cinque, saremmo ancora nell'ipotesi di due singoli proprietari e non ci sarebbe bisogno dell'amministratore. Sì, questo è un po' il quadro. Il perché nominarlo, questo è un po' il discorso, il problema del condominio è un problema, come accennava l'avvocato Minoccheri, di scottante attualità, ma esiste da sempre. Dico sempre una battuta per introdurre questo argomento, l'inferno non esiste, diceva un filosofo, ma se esiste è fatto a forma di condominio. Assolutamente, perché è un microcosmo che racchiude tutte in realtà le mali lingue, le maldicenze, eccetera, comune del paese. E' verissimo. Infatti uscendo dalla filosofia, sempre andando per immagini, e così continuiamo a ridere ma poi passiamo, è l'immagine fantoziana dell'assemblea condominiale. Cioè è la sede di, è il primo posto, il primo luogo dove viviamo i conflitti con l'esterno. La scena dell'assemblea condominiale in cui l'amministratore di condominio dice dichiaro aperte le ostilità, si mettono nel metto e si picchiano, quello è un eccesso da commedia, ma corrisponde a un problema. Naturalmente noi viviamo condomini, è proprio questo, siamo proprietari nella nostra sfera del nostro appartamento e quindi domini, proprietari assoluti di quell'ambiente, padroni. Appena varchiamo non il cancello esterno, cioè la vita pubblica, ma appena varchiamo il nostro portoncino e siamo nel corridoio, siamo già in un ambiente comune, comune con altri condomini e lì cominciano i conflitti tra i nostri diritti, i nostri doveri, a tutela dei diritti degli altri. Una situazione che in astratto potrebbe essere ingestibile, ma che richiede questa figura, la figura dell'amministratore finché sia in pochi forse ci si riesce ancora, non è detto perché poi con due o tre le problematiche ci sono ugualmente, ma dai quattro in su fino ai supercondomini da cento persone il problema diventa un problema politico, una piccola polis, una città in cui bisogna arrivare a convivere e in quell'inferno che dicevo prima ci vuole un santo, un dittatore che vedremo con quali strumenti. Bene, a questo punto io introdurrei i quesiti che ci pongono i nostri telespettatori per entrare nel vivo dell'argomento. Allora, la prima domanda, come si fa a conoscere chi è l'amministratore di un condominio? Ovvero, la mia domanda è questa, se volessi risalire all'amministratore di un determinato condominio, come faccio a sapere chi è? Cioè, c'è un obbligo di registrazione da qualche parte a cui si deve sottostare in qualche maniera oppure la nomina rimane verbalizzata solo all'interno del verbale di assemblea che ha provveduto alla sua nomina regolare? Chi risponde? Vado io? Beh, allora, intanto attualmente, con le attuali regolamentazioni normative non c'è un elenco di amministratori pubblico. Quindi, come si fa a conoscere il nome di un amministratore di un condominio? Evidentemente, se è il proprio condominio, suppongo che dalle comunicazioni si sappia. Se però ci fosse il caso di dover intentare una causa contro un altro condominio, è evidente che bisognerà risalire comunque al nome dell'amministratore, perché è a lui, in qualità di mandatario di tutti quanti i condomini, che vanno rivolti tutti quanti gli atti. E purtroppo oggi c'è una carenza normativa non di piccolo rilievo, perché non si sa e non c'è un elenco pubblico da cui risalire all'amministratore del condominio. E allora, chiaramente, ci sono possibilità empiriche. Cioè, si telefona a la vita delle pulizie che lavora in quel condominio e si chiede chi è. Certo. Magari si conosce qualcuno che abita all'interno e allora si cerca di risalire, ma è strano che non si possa in qualche maniera pervenire a un nome con certezza. E adesso è così. Poi c'è un progetto di riforma normativa che, dopo ne parliamo insieme anche con l'avvocato Foschi, anzi, vuoi illustrare qualcosa? Sì, al momento ancora non è entrato in vigore. Sono 40 anni che si parla di riforma del condominio e tutti gli amministratori invocano e sperano a questa. Questa volta un passettino e più in stato fatto, perché è proprio recentissimo, il 3 ottobre è stata votata in Parlamento, quindi in una Camera del Parlamento. E' stata approvata la riforma del condominio anche con, e prevede nello specifico con riguardo a questo problema, un albo unico degli amministratori e un registro dei condomini, quindi dovrebbe essere tenuto presso l'Agenzia del Territorio, per cui, per ipotesi, rivolgendomi all'Agenzia del Territorio, dovrei chiedere il condominio in via Talete, chi è l'amministratore al numero 52 e lì risulterebbe. Sempre che l'amministratore comunichi questi dati all'Agenzia del Territorio. Secondo questa legge, però, deve farlo perché ci sono dei compiti degli oneri, in base a questa riforma, fiscali, di registrazione, di tenuta dei documenti, per cui l'amministratore risponde anche sotto il profilo amministrativo, in alcuni casi poi vedremo penale, se non tiene questi registri e non li comunica alle autorità. Anche perché il problema principale, cioè perlomeno quello che imputano tutti i condomini al proprio amministratore è molto spesso di farsi un po' la cresta, nel senso che spese onerosissime, ci può essere un legame tra questo in qualche maniera inavvertita corrispondenza fisica e la possibilità, appunto, che ci siano delle spese molto onerose. Cioè il fatto che non siano rintracciabili nel livello... No, ma... Cioè di fatto l'amministratore si sa chi è ed è rintracciabile. In seno al condominio. In seno al condominio. Lo sanno i condomini. Il problema si pone nei confronti dei terzi, cioè di quelli che non fanno parte del condominio e devono avere a che fare con quel condominio e dicono chi è, come faccio. Ed è evidente che comunque questo è il problema, ma in realtà i condomini di un singolo condominio sanno chi è l'amministratore. Quindi problemi legati al fatto che comunque non sussistesse un registro o meno, a mio parere, non erano rilevanti per quanto riguarda eventuali atti. Da pensare nei casi, io parlo poi sempre per esperienze negative personali, mi viene da pensare a quando devi recuperare una somma di denaro che quindi hai in credito da vecchi amministratori che puntualmente non si sa più chi sono, chi non sono. Ah, addirittura. Sì, questo a me per esempio è capitato quando sono subentrata nel mio nuovo appartamento che in relazione a, insomma, delle spese passate non si riusciva a capire chi fosse e chi non fosse. Però insomma sono... Questi sono problemi che si sono verificati, addirittura il caso patologico, ci sono casi in cui l'amministratore, come si dice, scappa con la borsa, è terribile perché qui un conto è la gestione e le contestazioni in ordine alle spese del condominio e questo viene regolato dall'assemblea, quindi siamo nella fisiologia, magari l'amministratore chiede troppo, l'assemblea determina o contesta la tariffa e questo è nell'alveo contrattuale. Routine. Routine. Quindi il problema di quello che scappa con la borsa, sono casi di cui mi sono anche occupato, il problema è che il nuovo amministratore si trova a dover imputare ai condomini tutte le spese che l'altro non ha pagato, verso i fornitori, verso il fisco, verso, non so, penso al riscaldamento, verso ente, gas, bollette, giardinaggio, qualunque cosa. Il problema è che quest'altro, magari si riesce a sapere anche chi è, ma se si è dato alla macchia, risponde personalmente per tutto quello che ha commesso e per il disavanzo. Bisogna trovarlo. Bisogna trovarlo, fondamentalmente. Il problema è che anche trovandolo, se siamo in una situazione così patologica, non ha un patrimonio difficilmente contro cui rivalersi. La nuova riforma, tra le altre cose, e questo è il motivo per cui ancora non è approvata, prevede addirittura un conto corrente del condominio, un'assicurazione obbligatoria per il condominio, così che a garanzia di tersi o dei condomini. Ancora di più, prevede, se non ricordo male, una fideiussione rilasciata dall'amministratore per un importo pari al valore del bilancio del condominio. Però, quindi la fideiussione bancaria, ricordiamolo, è un deposito di credito. Adesso non so se sia bancario o assicurativo. Assicurativo, comunque è un deposito di denaro a garanzia semibloccato. Non è proprio un deposito di denaro, è una garanzia che dà l'assicurazione o la banca in favore del condominio nel caso in cui dovessero esserci degli ammanchi di cassa non giustificati. Non è una somma depositata lì a garanzia, è una somma di cui si rende garante la banca o l'assicurazione. Poi di fatto assomiglia alla somma depositata perché spesso gli istituti di credito e le assicurazioni chiedono sostanzialmente quasi lo stesso importo. Ecco perché l'impressione è quella di... Esatto. Per accendere questo tipo di... La mia idea era che fosse una somma di denaro messa lì, una sorta di caparra ecco. E a quel punto lì chi farà più l'amministratore? Eh infatti, infatti, ma almeno saranno buoni. Condomini con più di 100 unità abitative hanno dei bilanci di svariate decine di migliaia di euro. Su questo è appena il caso di dirlo. Chi è l'amministratore? Non l'abbiamo detto all'inizio. Noi pensiamo al vecchio amministratore, la persona singola che... Non è vero. Più volte la Cassazione è intervenuta anche recentemente dicendo che l'amministratore è una funzione che può essere svolta anche da una società, può essere svolta da un gruppo di persone, da un'associazione professionale, che è un po' poi la realtà attuale. Le competenze sono ormai tante, tali, giuridiche, tecnico, costruttive, amministrative, fiscali, per cui è quasi meglio rivolgersi a un pool che svolga questa attività. Sì, infatti, sono sempre più spesso le società che fungono da amministratore, che svolgono attività di amministratore. Quindi c'è bisogno di un titolo di studio? No. Ci sono delle competenze che però non hanno un diretto... No, perché l'amministratore sostanzialmente è un mandatario, per capirci. Lo può fare chiunque. è prevista la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, cioè è l'uomo medio. È sufficiente che si attenga a principi di buona fede, di correttezza, di diligenza, però può essere davvero chiunque. È ovvio che con tutti gli adempimenti che sono previsti già oggi, che potranno essere previsti in futuro, anche per l'uomo comune diventa davvero difficile, insomma, improvvisarsi all'amministratore. Poi sarà previsto anche un albo dove dovranno essere iscritti o potranno essere iscritti solo coloro che abbiano già una certa esperienza d'amministrazione. Per cui sostanzialmente si va a ratificare un'attività che nei fatti è stata già esercitata da un certo numero di anni e si presume che colui che l'abbia già esercitabile abbia quella qualifica. Ma oggi chiunque può fare l'amministratore è anche un condomino al quale può essere delegata chiaramente la funzione di amministratore. Ovvio che l'amministratore deve avere una serie di competenze, perché può essere facile così, ma in realtà ci sono delle funzioni abbastanza delicate. Primo, delle competenze di natura giuridiche, perché c'è poco da dire, il codice disciplina in tutto in pochissimi articoli, ma in realtà le cause sono tantissime. Perché? Perché col nostro principio di civil law noi siamo obbligati ad, diciamo così, avere una norma generale d'astratta. Però ogni caso concreto va poi verificato ed applicato in relazione con la norma generale d'astratta. Quindi ogni caso concreto vi si dice a quale articolo e come lo interpretiamo. e non è così facile. Eh beh. Aspetti tecnici, fiscali. Sì, ecco, quindi ci sono aspetti giuridici. Poi ci sono aspetti comunque di natura contabile, perché va gestito comunque alla fine un bilancio, quindi preventivo, consuntivo, verificati tutti quanti gli aspetti di chi ha pagato, come sono state fatte le uscite e quant'altro. Aspetti di natura fiscale, perché abbiamo comunque tutta una serie di eserciziamenti fiscali, comunque F24, ritenute da conto, quant'altro, eccetera. E poi aspetti tecnici, perché non dimentichiamo che comunque un amministratore deve comunque tenere e salvaguardare comunque la funzionalità e la stabilità dell'edificio. Quindi per aspetti tecnici ci rivolgiamo alla manutenzione, al straordinario dell'edificio, le tubature, ma anche l'aderatizzazione nel caso in cui fosse necessario. Tutto ciò che mantiene insomma in buona salute, in buona presenza lo stabile. Quindi può farlo chiunque, ma secondo me non tutti lo possono fare. Non tutti sarebbero in grado. Non tutti sarebbero in grado. Quindi ci vuole per forza un minimo di esperienza sul campo, perché ci sono tanti gli argomenti da toccare, da valutare, da tenere in considerazione, che si rischia anche facendo magari una stupidaggine di risponderne poi personalmente. Certo, assolutamente. Però da precisare non è necessario un titolo di studio specifico. Quindi, sino a questo momento, esatto, non è necessario. Allora, proseguiamo poi con le domande. Sono un condomino di un condominio che ha provveduto a revocare il precedente amministratore, ma quest'ultimo non consegna la documentazione a nuovo amministratore, il quale ci comunica di essere impossibilitato a svolgere il suo compito. Quindi qua, in che situazione ci troviamo? Siamo già arrivati alla fine, dopo ne parleremo poi e riprenderemo su come viene nominato e siamo già alla revoca. Comunque oggi parliamo di nomine revoca. Al momento della revoca, al di là delle modalità che vedremo, che può essere sia disposta, perché il rapporto è sempre fiduciario, e quindi disposto dall'Assemblea, o in casi particolari che, beh, possiamo già dirli, sono sostanzialmente gravi violazioni da parte dell'amministratore che legittimano anche un solo condomino a rivolgersi all'autorità giudiziaria, ossia la mancata presentazione del bilancio per almeno due anni, oppure gravi irregolarità, cioè ad esempio aver eseguito delibere che erano nulle, o non aver rispettato il regolamento condominiale, cioè sempre nell'eseguire le delibere. In questi casi si arriva alla revoca dell'amministratore. Ah, tra l'altro l'amministratore può anche dimettersi, per ipotesi. In questi casi di cessazione, per voler rispondere alla domanda dell'ascoltatore, si pone questo problema. Può il vecchio amministratore trattenere la documentazione? La risposta ovviamente è no. C'è però un problema. Prima di tutto, tra la revoca e la nomina di un nuovo amministratore, può anche intercorrere un certo periodo di tempo, per cui c'è una sorta di proroga delle funzioni e lui deve continuare. Ovviamente non potrà svolgere mansioni di carattere straordinario, ma deve continuare ad amministrare il condominio. Per quello ha la necessità di tenere i documenti, ma non può rifiutarne la consegna al condomino. Tanto che questi si può rivolgere all'autorità giudiziaria, sia per riavere i documenti, ma anche per ipotesi, se il trattenerli dura per troppo tempo, per chiedere la responsabilità e quindi un risarcimento nei confronti dell'amministratore. Perché c'è anche un principio, il nostro codice è vecchio sotto certi profili, ma è attuale perché è degli anni 40. Questo tempo necessario era quello per farne copia, per estrarre... Oggi abbiamo strumenti tecnici che davvero... Assolutamente, abbiamo la telematia che ci aiuta in tutto il futuro. Lo sa anche la banale fotocopiatrice, quindi l'amministratore non ha più alcuna scusa, alcun motivo per trattenere la documentazione e non consegnarla ad altri. Se non lo fa, quindi, ci si può rivolgere a un giudice, al tribunale, per ottenere la restituzione di questo e in ipotesi anche la condanna. Altra cosa simile, per questo è il caso della cessazione, è invece l'accesso ai documenti. Tipico, a ridosso dell'assemblea, il condomino comincia a dire io voglio vedere il bilancio, voglio vedere le singole poste. Ecco, su questo è intervenuta anche la giurisprudenza di merito, cioè non la cassazione, ma alcuni tribunali, che hanno detto, sì, è legittima la richiesta del condomino che ha diritto a documentarsi, però non in modo ostruzionistico per creare problemi all'amministrazione. Per intenderci, ho seguito casi in cui un condomino tempestava di mail l'amministratore pretendendo ogni singolo documento, e questo bloccherebbe, immaginiamoci, l'amministrazione di un condominio da 100 appartamenti, dove ogni mezz'ora arriva una mail che dice voglio vedere quel singolo verbale, quella singola fattura. Da questo punto di vista la nuova legge, ammesso che arrivi ad essere legge, perché siamo sempre a metà, prevede un sito internet del condominio. Forse è un passo un po' troppo in avanti, perché ci saranno condomini che ancora per età o altro non lo discutono. Ma neanche poi così, perché poi è giusto che si stia al passo con i tempi. Questo consentirebbe una trasparenza. Sì, ma poi si pensa alle persone anziane che magari hanno un rapporto con il computer un po' difficoltoso. Le persone anziane e quelli che non usano il computer, d'accordo, però non possiamo pensare comunque che si vieti la possibilità di entrare in possesso dei documenti anche in altra via. Certo, è fondamentale che ci sia un contatto informatico e poi la possibilità di mettersi al corrente, per le persone anziane oppure quelle che è, con altri mezzi. Certo, ma questo non è vietato. Però è sicuramente giustissimo mettersi al passo con i tempi, questo senza ombra di dubbio. E poi perché dà trasparenza a tutta l'attività amministrativa. Che è fondamentale. Oh, per me, guarda, un amministratore più è trasparente più comunque alla fine non ha niente da temere. Esatto. Perché questo è il problema. E anche poi un modo per dirimere anche tutte le varie liti, cioè la trasparenza è il modo migliore per dirimere tutte le liti. Poi chiaramente ci si può scontrare su varie altre questioni, quindi non è detto che comunque anche l'amministratore effettivamente appunto venga revocato, però il problema comunque della revoca dell'amministratore e della consegna dei documenti è un problema comunque non lieve, perché a me è capitato già più volte che alcuni amministratori nominati successivamente ad un altro dicano io non posso esercitare o fare nulla perché il precedente amministratore non mi dà i documenti. Cioè, non è un caso raro. Certo, anzi, anzi. Non è un caso raro. E quindi sai, in quei casi lì però attivare l'autorità giudiziaria, sì, certo che l'ultima è l'extrema razio, però è sempre comunque alla fine una situazione ormai anche, diciamo così, proprio da disastro, perché se devi cominciare ad andare in giudizio per fare una causa di questo tipo, poi chissà quando ti tornano comunque i documenti lo stesso. Infatti la trasparenza e la possibilità appunto di interagire con persone, documenti, fatti, sarebbe l'ideale per evitare scongiurare conseguenze diverse. L'argomento è stato in qualche maniera snocciolato, io invito invece a riprenderlo, perché evidentemente ci sono tanti cavilli invece da affrontare in maniera molto più specifica. Ne parleremo alla prossima puntata, allora. Se l'avvocato Foschi ha desiderio di... No, non abbiamo detto come lo nominiamo, ma forse siamo come tempo, lo faremo la prossima. No, se abbiamo ancora due minuti, abbiamo due minuti? Mi dispiace, qua sono... Alla prossima puntata. Però sarà una buona occasione per riprendere l'argomento. Io ringrazio come sempre l'avvocato Minocchere, l'avvocato Foschi e rinnovo ancora una volta l'invito a farci visita molto presto per approfondire. Ridiamo la linea a Debora e ringraziamo i nostri telespettatori. Grazie. Grazie. Ben ritrovati in studio, avete sentito quanti consigli e quante nozioni interessanti ha dato il nostro avvocato. Se avete una domanda da fargli potete inviare una mail a questo indirizzo programmi-di-tv.net Sicuramente una risposta per voi arriverà. Potete mandare anche un video messaggio sempre a questo indirizzo mail. E con queste ultime parole si chiude questa puntata di Diffusion. Io vi do appuntamento a domani, domani andiamo a farci belle. Parliamo di isoforesi e correzione delle piccole imperfezioni cutanee. Ciao.